cari amici e cari amiche di total photoshop ben trovati a questa nuova puntata della nostra tutorial tv proseguiamo quindi il discorso iniziato su photoshop cc 2015 e vedremo oggi questo brevissimo tutorial per imparare a creare delle scritte che sembrino incise che sembrino attaccate a una corona color oro cosa utilizzeremo utilizzeremo lo strumento trasforma lo strumento altera del testo ma soprattutto gli stili di livello passiamo quindi al nostro elaborato io parto da queste immagini che ho scaricato con una corona quello che dobbiamo fare è andare a creare un livello di testo clicchiamo per quindi inserire del testo andiamo a scrivere io sempre con poca fantasia scriverò total photoshop scegliamo un carattere che ci sembra idoneo io ho selezionato questo perché ha le grazie e quindi le grazie che come forse sapete sono questi elementi sopra il carattere che ci permettono di dare quel tono un pochino più storico un pochino più classico diciamo che è inerente quindi al nostro alla nostra immagine adesso la posizione qui la posiziono qui la nostra scritta ma poi penseremo a spostarla e a trasformarla successivamente do un bel invio come facciamo quindi ad aprire la palette con gli stili di livello abbiamo visto che basta cliccare due volte di fianco al nome del livello non sul nome esatto altrimenti ci permette di cambiare di cambiare per l'appunto il nome clicchiamo qua dove non c'è nulla oppure in alternativa col tasto destro su opzioni diffusione io trovo molto più comodo il doppio clic quindi apriamo lo stile di livello andiamo ad aggiungere smusso ed effetto rilievo è il primo stile che andremo ad aggiungere le impostazioni sono le seguenti andremo a mettere uno smusso interno a qua magari voi avrete dei settaggi che completamente diversi rispetto ai miei perché rimangono in memoria dalle ultime operazioni che avete fatto non c'è problema seguite ogni mio passaggio e vedrete che avremo un risultato uniforme come profondità io ho settato un settiamo attorno al 150 per cento possiamo anche andare ad aumentare successivamente se vediamo che è troppo leggero la dimensione può essere benissimo settata così in basso 6 7 pixel l'attenuazione la lasciamo attorno 2 o 3 la cosa importante andare a cambiare il contorno superficie cliccando qua ci viene permesso con l'editor contorno di cambiare per l'appunto il contorno del nostro smusso io qua ho in memoria quello che probabilmente voi non avete perché è un contorno personale che ho utilizzato precedentemente ed è rimasto in memoria ci basta selezionare tra i preset semicerchio quindi uno dei quali più semplici diamo un ok come metodo di luce invece qua dobbiamo andare a selezionare scolora che trovate qua attorno alla metà l'opacità la lasciamo attorno al 95 per cento 90 95 per cento andiamo a prendere invece questo colore per la luce che sarà lo stesso della luce che all'interno della nostra corona io adesso vado col contagoccia a selezionare quindi quel giallino lì vedete che è stato applicato al nostro contorno andiamo ad aggiungere anche l'ombra il metodo dell'ombra deve essere impostato su normale l'opacità al cento per cento l'ombra andiamo a prenderlo invece da uno dei colori più scuri all'interno della nostra immagine ad esempio questa qui è un'ombra noi selezioniamo questa e diamo un ok è quasi un nero poteva andare bene anche un nero ma ho preferito andare a selezionare il colore il colore corretto importantissimo l'angolo della nostra luce io lo lascerei attorno al 45 per cento quindi la luce che proviene da in alto a destra che è sostanzialmente l'angolo di incidenza che va a creare le luci e le ombre una volta fatto questo andiamo ad aggiungere una traccia che vedete qua col segno di spunta andiamo ad aggiungere una traccia che non avrà questa sfumatura perché ribadisco avrete probabilmente delle impostazioni diverse dalle mie perché rimangono in memoria dai lavori precedenti selezioniamo qua le sfumature e carichiamo se non le avete già applicate quelle qua di fianco che trovate all'interno dei preset metalli adesso facciamo così le vado a sostituire vado a selezionare questa che è quella con oro per l'appunto e do un ok selezioniamo questo che ci permette per l'appunto di aggiungere una traccia aumentiamo un po la dimensione per far sì che si riesca a vedere la posizione sarà quella esterna a seconda del nostro elaborato per l'appunto dobbiamo andare a verificare cambiare tutte le nostre impostazioni l'angolo di incidenza va benissimo lo stile lineare una volta fatto questo andiamo ad aggiungere una sfumatura clicchiamo qua sopra ci verrà aperta quindi la finestra che ci permette di dare le regolazioni della sovrapposizione della sfumatura cosa dobbiamo andare a cambiare innanzitutto la sfumatura perché qua va da bianco a nero mentre non interessa che abbia i due colori che sono interni alla nostra immagine quindi un giallo chiaro un giallo scuro andiamo a selezionarla non utilizziamo uno dei predefiniti ne andiamo a creare una nuova come facciamo a crearne una nuova clicchiamo qua sotto ci viene proposto di cambiare il colore e come colore noi andiamo a selezionare quello più scuro uno dei colori più scuri che troviamo all'interno della nostra immagine questo potrebbe andar bene ok magari un po più scuro perfetto andiamo a prendere il colore più chiaro qua di fianco con la stessa procedura o doppio clic qua o andiamo a cliccare sul colore e selezioniamo il colore della luce magari uno leggerissimamente più scuro per non andare a confonderci poi col giallino qua sotto e diamo un ok in questo caso possiamo aggiungere anche un colore intermedio che suggerisco per l'appunto di aggiungere perché era più volume alla nostra superficie di infitto 3d diciamo come abbiamo visto poco fa basta cliccare su colore e prendiamo un colore intermedio non un colore troppo chiaro vedete che già pian piano si sta andando a creare il nostro effetto diamo un ok diamo un altro che è qua aggiungiamo quindi un'ombra esterna il posizionamento qua può anche quasi andare bene mi interessa che non sia troppo scura possiamo andare ad aumentare un pochino la distanza vedete che in questo momento la superficie è similare a quella dell'immagine che vediamo qua sotto però una volta dato l'ok ci rendiamo conto che la nostra scritta e probabilmente anche la vostra in questo momento è troppo grande per la corona o per l'oggetto sul quale volete andare ad attaccare questa incisione questa scritta l'unica cosa che possiamo fare andare su modifica trasformazione libera o in alternativa col comando da tastiera command t possiamo andare a rimpicciolire tenendo premuto shift riusciamo a non cambiare le proporzioni tra altezza e larghezza vedete che ci permette di ridimensionarlo senza sballare completamente le proporzioni lo posizioniamo un po al centro e diamo un ok una volta fatto questo dovremo cercare di seguire un pochino la curva di questa corona quindi selezionando nuovamente lo strumento testo ci spostiamo qua in alto dove vedete che c'è questo bottone che ci permette di alterare il testo clicchiamo una volta e ci si apre per l'appunto questa palette altera testo come stile andiamo a selezionare arco senza andare a dare un valore così alto come ci viene proposto di default cambiamo leggerissimamente la curvatura diamo un ok e poi possiamo andare a rimpicciolire nuovamente se è il caso e riposizionare sempre col puntatore nero lo strumento sposta e non la nostra scritta vedete quindi che l'effetto è abbastanza verosimile se non ci soddisfa magari una volta che abbiamo finito l'elaborato possiamo sempre andare a cambiare delle impostazioni che abbiamo dato ad esempio lo smusso d'effetto rilievo possiamo andare a cambiare l'opacità della luce vogliamo che sia un pochino più più scuro possiamo andare a cambiare direttamente il valore andare a scurire un po la luce possiamo anche andare ad aumentare l'ombra se ci aggrada e così via per tutti i settaggi che abbiamo dato vedete che con pochi clic è veramente possibile andare a ricreare degli effetti fenomenali spettacolari io vi ricordo quindi se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al nostro sito e ai nostri canali social per ricevere tutti gli aggiornamenti sui videocorsi video tutorial se avete qualche domanda su questo tutorial su qualche altro su qualche altro argomento potete iscrivermi e quindi vi auguro buon divertimento con photoshop